Sigla Tattera un'importante collaborazione tra l'Università e la società cooperativa Conad Adriatico, che ha come obiettivo quello di sviluppare un'intermediazione formativa tra il mondo universitario e quello produttivo. L'intesa prevede infatti l'individuazione e la pianificazione di percorsi di formazione, progetti di ricerca e attività di trasferimento tecnologico, con lo scopo di rafforzare le relazioni con attori rilevanti del territorio e di potenziare le iniziative di trasferimento della conoscenza del capitale intellettuale umano al tessuto socio-economico nel quale operano l'Ateneo e la società Conad Adriatico. Questo è un rapporto molto importante che si inserisce nel solco delle relazioni tra l'Università di Teramo e il mondo produttivo. È l'inizio di un rapporto che prevede sia percorsi formativi che percorsi di ricerca e di trasferimento tecnologico. Il contatto, quindi ringrazio il professor Corsi attraverso la Facoltà di Scienze della Comunicazione, quindi anche con l'azione di cerniera dell'Avvocato Benigno Dorazio, che ha promosso questo tipo di incontro. Ripeto, per noi è estremamente importante perché avvicina sempre di più l'Università di Teramo al mondo produttivo. Una relazione a 360 gradi, come devono essere poi i rapporti tra le università e il territorio, quindi rapporti che devono intercettare percorsi formativi, percorsi di ricerca, ma anche e soprattutto poi il trasferimento della ricerca, quindi il trasferimento tecnologico per migliorare poi le performance economiche anche delle aziende. È una cosa importante per noi, perlomeno per Cornel Adiatico. Noi siamo sul territorio da tantissimi anni e sfruttare in qualche modo, tra virgolette, in senso buono, voglio dire l'opportunità di avere un'università qualificata, quindi dei corsi di laurea nella comunicazione e così via, sicuramente per noi è una bella opportunità di avvicinare dei giovani e di far avvicinare questi giovani alla nostra azienda. Abbiamo tre aspetti, uno è quello della formazione, quindi uno scambio reale, concreto, attraverso un programma fra le attività dell'università e degli studenti e l'azienda, quindi ci sarà la possibilità degli studenti e dell'università di fare degli stage, dei percorsi formativi all'interno dell'azienda e nello stesso tempo ci sarà per Conel Adiatico la possibilità di avere il supporto dell'università per quanto riguarda tutta l'area della comunicazione e anche in parte, voglio dire, di scienza dell'alimentazione per promuovere il territorio.